Cavarzano, Villa Gaggialante, l'ultima casa di Samantha in questa casa di riposo dove è stato allestito un piccolo reparto per coma vegetativi. Dopo l'operazione a Belluno, il ricovero a Feltre, l'ultimo tentativo a Vipiteno, la sua storia si concluderà qui. Samantha resta nella casa dei genitori in quella foto con alle spalle il fratello gemello e la sorella maggiore, il suo ultimo regalo. Ora il Comitato Etico ha deciso che non solo l'accanimento terapeutico non ha senso ma che perfino alimentarla è controproducente per gli effetti che ne conseguono. La sua storia era finita il 4 dicembre 2020 quando aveva 29 anni. Il 12 novembre era caduta, l'avevano operata per una piccola frattura al femore, poi una serie di peggioramenti che la medicina non ha saputo risolvere e che l'hanno portata in uno stato che il babbo ha voluto cristallizzare con un tatuaggio sul braccio. Allora questa è una valutazione che ci ha fatto il professor Saltuari ed è il Coma Recovery State. Praticamente questi sono dei valori che vengono dati. Praticamente Samantha attualmente si trova come livello uditivo a un 1, visivo 0, motorio 2, verbale 0, cognitivo 0, vigilanza 1. È da considerare che ognuno di questi valori va da una scala da 0 a 23. Questo è come attualmente si trova Samantha. La mamma di Samantha invece porta il volto della figlia con sé, anche lei sul suo braccio. Il babbo mercoledì giurerà per diventare il tutore della figlia e da tutore potrà chiedere ai medici che si attivino seguendo le indicazioni del Comitato Etico per accompagnare Samantha verso una fine dignitosa di questo suo percorso terreno. Come ha detto anche il Comitato Etico, anche il fatto dell'alimentazione e dell'idratazione al punto in cui si trova Samantha è considerato accanimento terapeutico. Per cui qualora i medici dicano sì, è giusto fare la sedazione profonda e accompagnarla al fine vita, io ho la facoltà di autorizzare questa procedura.